capire questo questa partnership tra microsoft e mistral nonostante microsoft abbia già i piedi in open ai quindi proverò a leggere e anche a sottolineare così magari può essere interessante questo è un articolo di diverge microsoft partner partnerà con mistral nel secondo di il ai dopo 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 penei che però in realtà il cd è un po diverso perché open ai ai c'è microsoft c'è proprio investito dentro in open ai microsoft ha annunciato una multi year partnership quindi una parte di più anni con mistral che giustamente french ai a start up valutata due billions di due milioni due due miliardi di euro valutazione di open ai ha riportato il financial times che questa partnership include il fatto che ma no vedi c'è anche stake quindi microsoft investirà in in mistral in una quota di con una quota di minoranza dopo un anno che naturalmente microsoft aveva già investito più di 10 miliardi e nel in open ai quindi microsoft investe anche non solo partnership ma proprio diventerà investitore quindi probabilmente insomma non so che quota di minoranza ci sarà magari siederà anche nel board di mistral allora questo accordo praticamente renderà i modelli commerciali i modelli naturalmente large language model commerciali di mistral disponibili sulle piattaforme azure ai di microsoft e quindi mistral sarà la seconda azienda a offrire un modello commerciale su azure dopo open ai ai quindi come nella partnership con open ai la partnership con mistral sarà focalizzata sullo sviluppo e deployment di large language model di nuova generazione tac questo anche importante quindi avremo modello mistral su azure tra l'altro mistral è questa anche me la sono persa ma ha annunciato un nuovo modello che si chiama mistral large e che è creato per competere qui da vicino con gpt4 naturalmente modello di open ai e a differenza di alcuni precedenti modelli di mistral non sarà open source maledizione quindi mistral large raggiunge risultati molto potenti sui benchmark più comuni rendendolo il secondo modello disponibile al mondo come performance dopo gpt4 l'ha detto open ai l'ha detto il team di mistral ai io sul dico la verità sui benchmark dei modelli non è che proprio sia super committato perché ho visto ogni volta che viene proposto un modello nuovo vengono proposti questi modelli questi benchmark ma sembrano tutti abbastanza cherry pick no cioè guardate io in questo sono molto fortissimo molto più di loro però magari in tante altre cose no poi bisogna vedere in che condizioni hai fatto quel benchmark eccetera eccetera quindi boh ci fidiamo sappiamo che è un modello potente diciamo che possiamo confrontarlo con la potenza del dgpd4 quindi competerà con gpt4 allora mistral large al momento è disponibile sull'infrastruttura di mistral in europa quindi in europa oppure attraverso e giure ai studio e azure machine learning c'è anche mistral small che sarà disponibile da oggi che è praticamente un modello con meno parametri con latenza migliorata mistral rilascia anche un chat pot che si chiama le chat bellissimo le chat le chat come scherdinger chat le chat che è basato in altri modelli di open eia di mistral ma che confondo di mistral ai i modelli di mistral sono tipicamente stati open source ma la partnership con microsoft significa che a questo punto la compagnia può esplorare nuove opportunità commerciali e quindi open source salutissimi ci siamo tanto voluti bene ma è venuto il momento di andare a fare soldi posto che si possa anche fare soldi con l'open source però in questo caso né microsoft né mistral vogliono fare disclosure dei dettagli dell'investimento quindi non sappiamo in che cosa esattamente consiste questa partnership ora l'investimento di microsoft in open in ora l'investimento di microsoft in mistral ai arriva dopo un periodo piuttosto turbolento in open ai questo l'ho detto giusto il 17 novembre a se beh naturalmente vi ricorderete quello che è successo a novembre no quando open ai aveva defenestrato il cio l'allora cio sam altman quindi non era più cio ma poi è tornato a essere cio perché microsoft ha fatto valere la sua potenza in in open ai e quindi sam altman è tornato a essere cio è tutto qua praticamente non si sa niente si sa che ci sarà questo deal si sa che microsoft prenderà delle quote di minoranza in mistral e si sa che mistral offrirà i servizi di llm commerciali in azure ma basta questa è l'unica cosa che si fa tutte le altre cose e che forse i prossimi modelli di mistral anzi già a partire da questo non saranno più open source questo peccato peraltro sappiate che di open source ai si sta parlando in open source initiative anzi vi consiglio di seguirlo ve lo cerco guarda open source initiative eccolo qua se voi andate a vedere su open source initiative c'è eccolo qua e di questo open source ai definition se voi seguite il blog di open source anche tra l'altro è un altro dei blog che seguo delle mie a giuseppe stai qua giuppi stai qua un attimo che dopo parliamo della cosa di nvidia che ti hai fatto il video stamattina voi seguite questo c'è una tutta una chiacchiera attorno alla definizione di open source ai sapete che l'open source initiative è quella che ha creato la definizione di open source e definisce cos'è una licenza open source e cos'è non è una licenza open source e la stessa cosa sta facendo con l'ei cioè per definire che cos'è un modello ai open source e cosa no e ci sono discussioni che secondo me vale la pena seguire non è un processo in itinere quindi se ne sta discutendo adesso sul blog open source initiative insomma trovate andate andate a vedere basta questo era il discorso ah no ultima cosa su azure aspetta che mi sono segnato una cosa visto che abbiamo parlato di azure c'è questa cosa aspetta non ce l'ho non ce l'ho forse l'ho salvata come azure no forse l'ho salvata come linux eccola qua sì questa sapete che linux sapete che microsoft ha una sua distribuzione linux se non lo sapevate ora lo sapete è una sua distribuzione linux che si chiama si chiamava cbl mariner cbl sta per common base linux questo nome cambia al momento è stato deciso che questo nome cambierà non si chiamerà più cbl mariner o mariner ma azure linux mi piace questo questo accostamento proprio tra linux e microsoft ancora più potevano chiamarlo window linux a questo punto no si chiamerà azure linux vedete è stato anche rinominato il repo github quindi ora cbl mariner si chiamerà azure linux no non rinominato è stato creato un nuovo repo azure linux vabbè volevo soltanto visto che mi ha parlato di azure sappiate che cbl mariner non si chiamerà più così ma si chiamerà azure linux basta tutto qua